Il Bari torna a casa nell'ottava giornata di Serie B Win. I pugliesi dopo l'esilio ad Andrea con la Provercelli ritrovano il San Nicola con il nuovissimo Prato per la gara contro il Vicenza. Biancorossi senza Clayton squalificato, al suo posto c'è Altobello nel 3-4-3 iniziale. Tra gli ospiti senza Padalino e Rigoni, Breda si affida al 3-5-2 con Malongain avanti supportato da Misuraca. Arbitra la penna di Roma per il Vicenza in Serie B a Bari in 16 precedenti, mai un successo. 11 vittorie del Bari e 5 pareggi. Si comincia dopo due minuti, la prima occasione è per gli ospiti con la conclusione provata da Misuraca dai 20 metri, un destro che però non impensierisce la manna. La replica dei padroni di casa, il destro provato da Bellomo già in gol nella gara interna contro la Provercelli. Stavolta però la conclusione non può creare problemi a Pinsoglio. Minuto 14, grande combinazione all'interno dell'area di rigore tra Caputo e Iunco. In tilt la difesa del Vicenza arriva a rimorchio Bellomo che cerca la conclusione. Destro però troppo aperto e senza la necessaria coordinazione, il pallone che si perde sul fondo. Insiste la formazione bianco-rossa pericolosa anche intorno alla mezz'ora. Ancora una volta concedono il bis Caputo e Iunco in combinazione. Stavolta ad andare alla conclusione è il capitano, il suo destro raso terra, inchiodato a terra da Pinsoglio. In avvio di ripresa Torrente prova il cambio, fuori un centrocampista Romizzi, dentro Galano decisamente più offensivo. L'ingresso del numero 7 è pericoloso dopo soli tre minuti quando recupera il pallone sulla corsia di destra e poi prova l'iniziativa personale. La percussione dopo aver puntato il difensore si accentra un'azione all'Arien Robben. Il tiro dai 16 metri, pallone che va a colpire soltanto l'esterno della rete. Un minuto dopo però la formazione di casa passa, l'azione nasce dall'iniziativa di Caputo. Il servizio per Bellomo, la sua percussione, un passo dentro l'area, un destro raso terra che sorprende il toglio. La proposta è sorpresa della circostanza, la rete del 1-0 per il Bari. Il terzo gol in questo campionato per Nicola Bellomo dopo la doppietta rialzata con la Provercelli, sempre in casa, seppur su campo neutro. Il Bari sblocca così il risultato e poi il tentativo da parte di Iunco che cerca di dissare la rete del vantaggio con un destro a giro che però si perde largo. Al minuto 10 ancora un'iniziativa da parte di Galano, ci prova sempre col suo piede preferito con il sinistro dai 25 metri la parata a terra di Pilsoglio. Un minuto più tardi, grande opportunità per Ciccio Caputo sulla punizione di Polenta. Si trova liberissimo di colpire sul primo palo, il suo destro però finisce altissimo. Dall'altro lato si vede il Vicenza con l'iniziativa del nuovo entrato Giacomelli, entrato in campo al posto di Pinardi, incrocia il destro la parata a terra di Lamanna. Grande opportunità poi al minuto 31 sulla botta dai 30 metri di Capitan Pisano, deve volare Lamanna per mettere il pallone sopra la traversa. Grande opportunità, grande riflesso però per il portiere del Bari di proprietà del Genoa. Dall'altro lato l'azione della formazione di casa con Caputo che si inventa letteralmente un pallonetto dai 40 metri. Pilsoglio con l'aiuto della traversa riesce a mettere in calcio d'angolo. Prima della chiusura in pieno recupero ancora Stefano Giacomelli al tentativo di conclusione. Ultimo brivido per la difesa del Bari, pallone che però si perde alto sopra la traversa. Il Bari vince per 1-0, scavalca il Vicenza in classifica e si porta a quota 10. Il Bari vince per 1-0, scavalca il Vicenza in classifica e si porta a quota 10.